Gare? Poi? Per quanto esistono i modi paralleli? No, per me non esistono Dici? Sì No, Edward, no, così non hai messo Dio, chi è che ha scelto questo cameraman? No, è tu l'hai scelto, è mica io Ma siamo nudi? Mi voglio guardare il fisico Io sono caldo e sono un bastone Caldo? Eh? Sei andato un bastone? Che cazzo vuoi? Guarda che vengo a minarti eh Oh no 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 Ma ci siamo scambiati i ruoli? È vero Grazie Caldo Eh? Come si legge questo cosa? Non rompere Aiutami dai, non so che come si fa Non rompere Cos'è così? Non rompere! Oh mio Dio, ma questo mondo non esiste! È ufficiale È uscito lo shop dei Two Flings Maglie, felpe e tazze di tutti i colori Per interessati il link della shop è in descrizione Oh mio Dio, ma questo mondo non esiste Ma dove è andato Caldo? Oh mio Dio, Alba l'hai visto? Cosa? Eh no, non l'ho visto neanch'io